benvenuti su veie games iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere la priorità acquisita ciao a tutti e bentornati su veie games con jacuzza like a drag ok per entrare bisogna avere l'equipaggiamento le armi l'armatura e anche gli accessori perché altrimenti non ti fa entrare dovete essere tutti vestiti infatti io ho perso un po di tempo vestiti perché praticamente non avevo niente scusami I don't see any guards that's because no one is stupid enough to try and raid the serial clan scusami Sì, tu ci si riusciti. Non ci riusciamo a nessuno di altri faccions. E' questa porta si riuscita come una cattlesho, se qualcuno si riuscita senza dare il signo correcto. Poi, noi prendiamo il tempo con la scuola. Qualcunque il loro ranko possa essere in loro loro, non dimenticare. Cosa c'è il Presidente? L'interno di un'interno? Potremmo, tu non riesci a riusciti. Io non lascio che venire da un'interno di lui. oh i was really hoping you'd seen the light i guess we're back to using brute force boys i tell you never a dull day with ichiban people better put us in their wills for this bring it let's do it check this out get serious i got this all right let's do it you wanna fight go yeah take your best shot come on now you're in it now you're in it now you're in it now check this out all right let's do it let's go get a life come on now i got this i got this yeah oh yeah moving up in the world you wait right there you won't be leaving here alive you you gotta be kidding me how are we supposed to get through well standing around won't solve anything let's find another way around 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 the other door's locked this is a dead end this should hold it good call open up now what we can't hold this forever then we need to improvise son of a what the fuck where are they i don't know where they're went the door's locked and unlock the damn thing before they get away hey hey get your ass over here i don't know they bought it yeah i guess so hey we're good namba coast is clear ninja ninja listen this is this is oh wow Hold on I've been waiting for you gentlemen get rid of it okay let's go those that don't get cocky a little first aid hey you want to fight take your best shot let's go get serious let's go oh watch it take your best shot check this out yeah yeah Sì, 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 sì. I'm up! Let's go! Someone's gonna pay! For fuck's sake! Come on! Someone's gonna pay! We'll start something! There we go! Go! Super weak! This is the worst! Have fun with this! I gotcha! Appreciate it! Come on! Come on! Here! Let's go! Let's go! Go in! Go! 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 You wanna fight? Don't get caught! Go! Huh? Feeling better! Gotta make it count! Take your best shot! Come on! Come on! Get serious! Come on! Don't get caught! Come on! Come on! Watch this! How are you doing? You're weak! You're weak! I got this! I got this! Come on! Come on! Have fun with this! Little first aid! Thank you! Pain in the ass! What are you doing? You wanna fight? Let's go! No mercy! Alive! You're weak! I got this! Kouya! Kouya! I got this! Okay... Fuzukin there! Watch this! Don't get caught! You're in it, Tassu! gotta do something about this yes you yes you wanna fight let's go have fun with this I got you thanks yo pain in the ass cool okay you're in it now what's this little first aid I got this let's go yeah have fun with this I got you let's go I'll patch it up you wanna fight gotta do something about this you're in it you're in it now cool don't get cocky you wanna fight you're in it now you're in it now you're in it now yeah yeah have fun with this I got you thank you look at me go no one else is coming pretty weak ambush if you ask me I bet those idiots I bet those idiots wanted to hog the credit for taking out the intruders oh is that what it is wouldn't it be easier for them if they all ganged up on us nobody climbs the corporate ladder in a group criminals included huh no wonder I've never been promoted oh god oh god No, 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 no. Sì, non è vero. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti You wanna go? Come on now I'm up Let's do it Going in You're in it now Take your best shot I got this That's better Go get coffee Check this out Let's go Let's go Let's go Come on Sì, vabbè! Tu vuoi l'eventure? Sì! 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 Mi sento un buon sentimento. Sì, vabbiamo a fare la prima volta e vedere come va. Sì, vabbè! Sì! Sì! Ehm... Oh, that breeze. Cool! Getting serious! Don't get cocky! Come on, let's go! Oh I'm up let's go Let's go see Yeah Come on fight My Going in Okay Watch this I'm gonna take your best shot That's Cool My Yeah I feel the stats going up Hell yeah Oh Okay Wow that would look good I'm going to blast her easy I'm going to blast her Hello Should I open it? Sweet I can use this key to open up the safes I should probably keep an eye out for these safes if I find any more keys Oh I can use this case I can use this move That's okay Now I think I can open it until I work There is a lot of things I don't have it I'm going to help myself I can use this I can use this To pull it To And Lui non sta per... Per lui... Cura e resistenza al fogo... Prends-le! I'll get you out of this! Hold on, Alma! I got you! Hurry! Just... a little... more! Padachi-san! Prends the attack! Enjoy your flight! Nomba! Over here! Etaxi! We got him! Now lift! Don't give up! I'm alive! I'm laggy kid! I'm better do my best lapel at this side of the walk. ok 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 no 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 that's fun with this let's go yeah you want Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Don't get cocky! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Have fun with this! Let's go! Let's go! Let's go! Yeah! That's better! Get serious! Let's go! 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 He's going! Let's go! Let's go! non si può usare lui basta difenza è impatto meglio impatto che ha ok non ma non consistently ma il è c'erto un'altra cosa che vengono un'altra cosa che vengono ah ah che vengono Sperolamente? Sì, è completamente inutile. Sì, è così, ma almeno... Sì, è così, è così. farai così, namba, no, vabbè sì, namba, ok, ancora che me lo saluta, me lo saluta, questo, da certo, ah, corte di maia originiera, fa fosse un'armatura, c'è un'utilizzo armatura, invece è un accessorio, vabbè, guardate, 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 quindi qui siamo, qui è dove ci hanno lanciato, quindi questa base di... siamo qui? non sembra che mi ha particolare, siamo qui un minuto, avete un po' ricordo, ecco, questo posto sembra sicuro, perchè torniamo un profilo? Ah, non c'è un punto di salvare, non è? Ah, sì, non è che mi interessa questa cosa qua, speravo che ci fosse un punto di salvare. Allora, dobbiamo andare, riusciamo, vediamo in piena, ma non ce ne sono sempre più, va bene. Allora, vediamo, 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 vediamo.